con il sussidio di Gino Di Lorenzi al videolettore e con Flavio Pantanetti che ci seguirà invece con il telebim e con il computer e andiamo subito allora a scoprire la prima immagine di cui ci interessiamo, vale a dire il gol realizzato da Pruzzo nel primo tempo della partita tra Roma e Bari che ha dato il pareggio alla Roma che poi avrebbe vinto la partita. Ecco l'azione, qui probabilmente più che di gol di Pruzzo si tratta di autogol di Lusito rivediamo l'immagine nella sua fase determinante, ecco l'azione, c'è il pallone che schizza in aria, viene pure avanti Gino sul tiro di Boni, poi Tovalieri, poi la palla viene controllata col petto da Pruzzo, il suo primo tiro è respinto dal portiere barese la palla schizza tra due giocatori, Pruzzo e Roseto, e ne è probabilmente la coscia sinistra di Roseto che sostinge il pallone al di là del suo stesso portiere, è il gol del pareggio romanista. Andiamo avanti allora per questo e occupiamoci invece della partita tra Fiorentina e Milan, anzi meglio tra Milan e Fiorentina, anche questa decisa da un calcio di rigore dopo che Milan fortunatissimo nel corso del primo tempo aveva colpito due volte i legni della porta avversario una volta con Rosso e una volta con Etri, tutte e due in una posizione abbastanza favorevole. Il gol è venuto con un calcio di rigore che è stato poi trasformato da Lusito, ecco vieni pure avanti, abbiamo già a disposizione immagini rallentate ecco Etri e Pascucci che entrano in contatto, va a terra Etri, da qui si capisce poco, andiamo velocemente avanti Gino se è possibile abbiamo un'altra inquadratura, dietro la porta vedete intanto che Pieri ha concesso il rigore malgrado le proteste di Antonioni e tutti gli altri giocatori della Fiorentina, ecco rivediamo, questo è il momento decisivo vediamo che Etri e Pascucci, quindi persone Fiorentino, quando entrano nell'inquadratura si stanno già spingendo addirittura sembra Etri che fa certe di ostruire il passo all'avversario, poi nella spinta e contro spinta va a terra Etri c'è da dire una cosa, come vedete Pieri è vicinissimo e quindi la sua valutazione si deve ritenere la migliore possibile anche se effettivamente i fiorentini non avevano forse tutti i dosti a protestare rigore comunque trasformato da Dirdis che decide la partita